Senti Supergirl, ti frantumerò in pezzettini così piccoli che nemmeno mia nonna che riesce a fare dei puzzle di cielo azzurro da mille pezzi in meno di un'ora riuscirà a rimetterli insieme, neanche lavorandoci sopra un anno intero, anche se dovesse tornare ai tempi di quando aveva una vista perfetta.